Ciao amici e benvenuti da DJMisterQuinti Vi dico subito che non mi piace fare questo tipo di video a me piace direttamente andare a recensire i prodotti per riflettere soprattutto alle email che mi avete inviato me ne arrivano diversi con consigli ma anche qualcuno che mi scriveva mi sono iscritto al tuo canale perché pensavo che fossi un recensore di prodotti musicali e poi mi trovo la scopa elettrica questo nel tempo mi ha fatto riflettere e mi ha fatto decidere appunto le novità del canale innanzitutto stiamo cercando di risistemare tutte le copertine renderle più fruibili in modo facile proprio a tutta l'utenza anche quelli non iscritti e soprattutto voglio concentrarmi sulla mia passione primaria quella della musica, dell'ascolto musicale per il resto abbiamo deciso di escludere tutto al di fuori di questo target quindi chi si iscrive al nostro canale voglio che sappia bene che è un canale che abbiamo deciso, ho preso una linea ben chiara quella di andare a recensire solo i prodotti che fanno parte o meglio che fanno parte della mia passione da sempre chiusa questa piccola premessa che mi sembrava opportuna e doverosa ho un po' di prodotti in test musicali ho delle cuffie con dell'attivazione della NC in test ne ho altre ho uno speaker che sto testando mi prendo anche più tempo sinceramente visto proprio perché secondo me i 4-5 giorni che mi prendevo solitamente per i test non bastano ad andare a recensire un tipo di prodotto che costi tanto poco non fa differenza però ci sono alcuni aspetti voi sapete non entro mai nel tecnico che vanno analizzati per più tempo quindi mi prenderò tutto il tempo dovuto e poi andrò a recensire e a consigliarvi se il prodotto sia valido per la spesa oppure no comunque io vi ringrazio come sempre di avermi seguito se vi va potete iscrivervi al canale no di qua la metto il logino cliccate e attivate la campanella per avere tutte le notifiche dei nostri video delle nostre nuove pubblicazioni oppure andare qui sotto magari andarvi a vedere un video di vostro interesse perché no una scopa elettrica che abbiamo recensito ma da oggi non la troverete più io di nuovo vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima video recensione ve le metto girate perché la sorpresa è davanti però la scatola farà chiaro una mezza idea sulla marca potete averla ci vediamo nei prossimi giorni grazie a tutti Grazie a tutti.